buongiorno oggi lo spinetto è innevato molto bello maiali stanno mangiando e qua ci sono i ricoveri dei piccoli che stanno insieme alle scrofe infatti siamo nel loro recinto e qui c'è mio marito gabriele ciao io sono gabriele marito di tiziana siamo qui in questo igloo viene chiamato così questo tipo di struttura a cupola che serve per il riparo invernale del dei suini e permette una perfetta coibettazione e un isolamento termico proprio dato dalla sua forma dalla sua forma a cupola infatti la temperatura interna è circa 10 gradi superiore a quella esterna proprio per questo effetto che quando gli animali permangono in questo in questo in questi gru riescono a scaldare proprio l'ambiente e che è una caratteristica non indifferente nelle giornate di neve ecco qua gli animali che stanno mangiando nella parte coperta infatti un allevamento brado come il nostro come parti coperte oltre alle cappanne dove dormono c'è la zona dove mangiano in questi ultimi giorni abbiamo avuto diverse visite erano tutti stupiti perché evidentemente faccio pochi video e quindi non si capisce bene quanto sia brado questo allevamento allora ci impegneremo per farvi vedere maggiormente cosa significa l'allevamento brado e come in particolare il nostro gli animali stanno in più di 4 etteri e problemi non ne hanno neanche in queste condizioni perché sono animali molto rustici non temono il freddo e loro basta che abbiano da mangiare e abbiano un riparo dove dormire e comunque qualcuno preferisce sempre la boscaglia anche se noi mettiamo le capanne con la paglia comunque preferiscono la boscaglia lo spinetto innevato è particolarmente bello oggi inoltre è santa bibiana il detto popolare dice che per santa bibiana e se piove o se nevica si verifica poi per 40 giorni e una settimana ecco speriamo di no insomma 40 giorni una settimana così sono un po troppi anche se adesso ci possiamo godere un panorama bellissimo questi sono i tubi dell'acqua sono sospesi perché altrimenti ai ragazzi piace molto giocare qua ci sono tutte le loro impronte adesso stanno mangiando quindi sono sono su una cosa della quale si stupiscono le persone che vengono in visita e anche gli stessi veterinari è che quando noi passeggiamo nei ricinti ecco qua c'è la parte bassa di bosco che di bosco adesso non andiamo giù perché abbastanza impegnativo allora dicevo si stupiscono perché comunque quando noi passeggiamo ci seguono sembrano animali domestici e non hanno paura sono proprio a loro agio questo perché perché siamo noi che entriamo nel loro ambiente e quindi sono a loro agio e non viceversa perché invece è in una stalla chiusa dove comunque si sentono a disagio per rumori odore e spazi e sicuramente un elemento in più che può essere un elemento umano può creare stress in questo caso no siamo noi che siamo i loro ospiti quando nevica mi viene sempre in mente una cosa che ho imparato in biodinamica perché come poi confermeranno il cultore della biodinamica quando nevica bisogna raccogliere la neve per poi congelarla e preparare nei momenti estivi dove c'è particolarmente torrido preparare appunto un preparato biodinamico con questa neve perché ha un potere di idratazione maggiore rispetto all'acqua quindi si prende un bicchiere d'acqua si congela in estate quando vediamo che fa caldo e c'è particolarmente asciutto questo bicchiere d'acqua va sciolto di questo bicchiere di neve va sciolto in 10 litri di acqua poi va dinamizzato che è un processo che poi magari vi spiegherò un'altra volta e va messo in una pompa a spalla e dato nell'appezzamento che ne ha più bisogno per tre sere consecutive sempre al ridosso della luna piena insomma è una cosa magari utile soprattutto per chi ha le orticole è interessante magari provare queste cose per più volte e vedere effettivamente se poi ci sono dei benefici o meno ecco anche se ha nevicato come potete vedere dalle impronte ai maiali piace comunque girare per tutto il loro spazio anche se ad alcuni piace stare principalmente all'asciutto altri no invece perché comunque loro continuano a cercare di mangiare e via dicendo ecco qui inizia poi un'altra parte di bosco che per loro è facilmente accessibile perché sono più bassi e più agili per noi no invece quindi quando qualcuno vorrà venire a vedere dal vivo il nostro allevamento ben venga così potrà rendersi conto di quello che diciamo sui social questo è un cespuglio di rosa selvatica e nella stagione invernale poi ci sono le bacche e ad altezza maiale non ce n'è una sono rimaste solo quelle in alto tra l'altro e le bacche di rosa selvatica hanno un sacco di proprietà quindi insomma ne trarranno sicuramente beneficio anche perché in questo in questo pascolo ce ne sono veramente tantissimi e non solo rosa selvatica eccoci abbiamo camminato un po e siamo arrivati dall'altra parte del del pascolo ogni tanto cellulare lo devo mettere via perché comunque si scivola sono particolarmente instabile e quindi per non fare danni al mio telefono anche poverino già ne ha avuti abbastanza lo devo mettere in tasca qui siamo nella parte che da su vallezza infatti quella lì che è al confine con con i recinti è la vecchia casa dove abitavano le persone che lavoravano nella petrolifera di neviano dei rossi è un luogo comunque molto bello con un museo da vedere ogni tanto in estate vengono organizzati dei tour dalla proloco di fornovo ecco un paesaggio bellissimo io non mi stanco mai di guardarlo poi la neve da un silenzio che è quasi totale anche perché ci siamo allontanati dai maiali che stavano mangiando ecco